E perché Gordon, quello che è morto aeree, era lui che organizzava sempre. Allora avevo un tedesco e un ragazzo ha detto dobbiamo andare a dare l'assalto al treno che arriva, che porta le munizioni al fronte. Allora si sono decisi, noi siamo partiti con due grosse bombe e un mulo e poi siamo andati fino a Baeso. E quindi era già 7-8 ore che viaggiavamo, perché il mulo andava piano. E noi, dopo passati a Baeso, c'era un ragazzo che lavorava con noi di Baeso, allora che si chiamava Barrozzi, poi è anche morto, poverino, giovanissimo. Allora ha portato, si vede che Gordon ci avrà detto ma come facciamo ad andare così lontano, insomma, con delle armi. Niente, sono andati in un'officina, secondo me questo Barrozzi ci avrà detto adesso vi porti in un'officina e ci ha messo una 1.100 a disposizione. L'hanno lavorato giorno e notte per prepararla e il giorno dopo sono partiti con... Ma io sono dovuta andare in anticipo, io sono dovuta andare a piedi. Loro sono andati poi con la macchina, dopo il giorno dopo, anche un po' più tardi, ma io sono dovuta andare in anticipo e dire guardate che arriva una macchina tedesca con tre uomini, però sono i partigiani. Qui c'era il documento che mi aveva dato. E nel libro di Gordon c'è la cosa, c'è la fotocopia di quello che io avevo, non so se l'ha vista. C'è che gli inghesi hanno detto qualcosa succeda, noi vi ricompensiamo. E l'avevamo scritto loro. Allora io avevo questa lettera, ho detto quando arrivano, guardate che sono questi qui, non sparate perché sono tre partigiani che vengono per sabotare il ponte. Allora va bene, è andata bene. Io quel giorno sono stata lì, sono arrivata anche lui il giorno dopo, perché io invece ho voluto più di una giornata andare giù, partire da Baeso, andare fino a Soliera. L'ho segnato sul libro per ricordarmi dov'è, ma a Cortile, a Cortile dopo Campogaliano. Sono andata giù per i fossi, andavo sempre giù dietro il canale finché andavo giù, perché da quelle parti lì, poi dopo ho passato una rubiera. Insomma, lì è lungo da raccontare. Però sono arrivata a dare la lettera. E così poi sono arrivati giù l'uno il giorno dopo con la macchina. Perché se arrivavano questi tedeschi, arrivavano in un'azienda in campagna, molto all'aperto, in una casupola, però arrivavano tre tedeschi, era la prima cosa che facevano i partigiani, ammazzarli. Perché dicevano, cosa vengono a fare? Quelli là vengono per prendere noi, allora avrebbero ammazzati, niente. Poi è finita che è andata bene, perché loro sono arrivati bene, hanno aspettato la notte, hanno messo le bombe, infatti il treno è deragliato. Sono stati tutta la notte lì vicino al ponte, perché poi i partigiani ci hanno portato loro ai posti giusti, perché se no, se non avevano appoggio di qualcuno, non potevano fare niente loro laggiù. Se non avessero avuto l'appoggio, ma sì, facevano qualcosa, però erano in pericola, invece così sono andati al punto giusto per mettere queste mine. E poi fino alle 5 di mattina non è arrivato il convoglio, ma è arrivato, allora hanno detto che hanno ammazzato parecchia gente, cioè hanno deragliato 6 o 7 che erano carichi di munizioni. Così è andata bene, dopo due giorni sono arrivati su a secchio, dei brillanti che avevano fatto una bella azione.